Parlando comunque degli stati generali della scuola digitale, dobbiamo parlare di scuola, dobbiamo parlare con un osservatore privilegiato, qual è Stefano Ghidini, di quello che è sostanzialmente il mondo dei fornitori della scuola, come è cambiato il ruolo del fornitore ai tempi forse anche dell'intelligenza artificiale. Buon ospicio. Grazie a tutti e grazie a Teanora in particolare per avermi invitato, è sicuramente un onore e grazie a tutti voi che quasi quotidianamente ormai ci contattate per chiedere indicazioni e consigli su quello che si può fare. Il ruolo del fornitore a mio avviso è cambiato veramente tanto negli ultimi sei o sette anni, parliamo di fornitore di tecnologia. Sette, otto anni fa il nostro ruolo era quello di acquistare al meglio, venderli al meglio e si guardava il prezzo. Abbiamo erroneamente riempiti di tecnologie senza capacità di ascoltare ciò che le scuole realmente avevano bisogno di implementare all'interno delle scuole. C'è stata una fase seguente, probabilmente un altro errore. I fornitori hanno cercato di fare da formatori all'interno delle scuole. Il ministero, le indicazioni delle scuole ci chiedevano formazione, una formazione che si avvicinava troppo spesso a una formazione didattica, per cui rischiavamo, parlando di mercato chiaramente italiano, troppo spesso di entrare in sovrapposizione con un lavoro che sapete sicuramente fare molto meglio voi. Allora a quel punto ci siamo posti. Come si può sicuramente cambiare il ruolo? E nasce a questo punto la necessità e la forza della collaborazione. Cioè il fornitore non è più colui che deve proporre, senza ascoltare, la tecnologia alla scuola. Il produttore deve collaborare col fornitore per dare le competenze direttamente al fornitore. La scuola deve pretendere, e li sottolineo cento volte, pretendere, valorizzare se è il caso o punire, se non è il caso, il fornitore che male ha lavorato. Io insisto molto in questo periodo sulla differenza del termine formazione. Cioè secondo me le scuole, termine formazione ovviamente è l'obiettivo della scuola, ma deve esistere ancora una parte formativa da parte del fornitore della tecnologia. Perché l'ultimo miglio è della persona più vicina a voi. Non è più una formazione ICT, tecnologia, cioè non siamo più, e non possiamo secondo mai più essere, gli uomini del cacciavite. Quindi la formazione tecnica non vuol dire spiegarvi come è nata la rete Wi-Fi e quale deve essere il protocollo inserito dalla scuola. Quello è un ruolo del tecnico, punto. Può essere interno o esterno. Il formatore è colui, parlo dei formatori chiaramente legati ai produttori e ai rivenditori, sono coloro che fanno da tre d'union tra diverse tipologie di prodotti che esistono sul mercato. Il produttore non ha spesso questa possibilità, perché è chiaramente molto preparato nel suo settore. Non ha la conoscenza degli altri produttori, non sa come implementare i prodotti degli altri produttori. La scuola ha bisogno che tutto funzioni. Tutto funziona, a visti i bandi di appalti che ovviamente lasciano apertura e libertà alle scuole di decidere liberamente, in base agli obiettivi ovviamente formativi, è necessariamente un insieme di tante tecnologie che però devono dialogare tra di loro. Questa funzione fondamentale, ci viene chiesta, è una funzione molto concreta sul territorio. Quindi smetterla di parlare, andare su agli eventi, andare sul campo, aiutare nel mio ruolo, perché ho la fortuna di lavorare con più di 300 fornitori delle scuole italiane. Cioè lavorare con 300 fornitori delle scuole italiane, cioè vuol dire avere una visibilità del mercato veramente importante, capire gli errori che sono stati fatti in certe zone, in certe regioni intere, capire come sono stati realmente investiti i finanziamenti dei vari fondi regionali, europei e simili all'interno, per trarre beneficio e spunto da tutto questo. Quindi il messaggio che vi chiedo davvero è due cose. Cercate di richiedere e valorizzare, o ribadisco, punire il fornitore che non riesce a darmi una consulenza. E imparate insieme ai fornitori, che siano poi coloro che vinceranno la gara o no, perché secondo me poco poi interessa al fornitore alla fine, a progettare un percorso che dura almeno due o tre anni. Perché tutta questa velocità nelle decisioni, il voler, tutta questa progettualità continua, il fatto che ogni fondo che arriva alla scuola giustamente cerchi comunque di, uso il brutto termine, accaparrarselo, perché c'è la convinzione che la scuola ha pochi soldi, errata, erratissima convinzione, crea confusione. C'è una scuola che ha una progettualità. Da troppo spesso, se domani mattina esce un fondo specifico a una determinata tecnologia, lo voglio, ok, lo acquisisco, il giorno dopo non è all'interno del progetto scolastico, ridistrugge il progetto scolastico e si ricomincia di nuovo da capo con la progettualità della scuola. Cioè puntate, scrivete, fermatevi un attimo, usate quello che avete, pretendete dei fornitori vecchi, precedenti o chi sul mercato è in grado di farlo, di fornirmi, se serve anche gratuitamente, le competenze sull'uso della tecnologia che già avete. Quindi smettiamo di continuare a parlare male delle vecchie LIM, incominciamo a usarle, chiediamo ai produttori di aiutarci a usarle. Magari non sarà più per una lezione frontale, magari diventerà un prodotto a disposizione degli studenti in classe per realizzare dei contenuti e condividerli. Perché sapete meglio di me l'importanza comunque dello stare in piedi e presentare i progetti. Io con questo vi saluto, rimango qua tutto il giorno, se qualcuno di voi avesse bisogno di qualche indicazione, ci sono. Grazie a tutti.